ok, ora prendo da qui va molto bene i trick di stasera saranno tutti pazzeschi ciao grazie di essere qui con me oggi oggi vi porto un nuovo video della serie 10 livelli di ASMR saprai resistere prima di iniziare ti chiedo sempre di mettere un bel mi piace lasciarmi un commento su quale livello ti sarà piaciuto di più gli ultimi saranno veramente irresistibili, te lo dico altra piccola novità ho aperto un canale telegram non di vita privata perchè per quello c'è instagram per quello c'è il mio secondo canale youtube ma è un canale in cui vi segnalo delle offerte di cose che uso nella vita di tutti i giorni o che mi piacciono che trovo in giro e ve le segnalo in modo che magari possiate risparmiare un po' di soldini su cose che vi servono vi lascio il link giù in descrizione e anche nel primo commento per andare a curiosare cominciamo con il livello 1 il livello 1 è il più semplice di tutti e quel suono che si è bello ma dai non ti va proprio a tormentare ti rilassa ho questo tè che mi è rimasto dal calendario dell'avvento l'anno scorso di tè infatti si chiama Christmas Day infatti si chiama Christmas Day molto speziato molto 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 e in particolare io amo questo suono l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso tutto l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il secondo livello è una cosa che a me piace tanto fare sempre all'inizio video. E la faccio perché proprio io amo vederla in un video smr, mi trasmette conforto e mi trasmette calore, letteralmente. E sto parlando dell'accendere una candela e tutti i suoni della candela li adoro. Così dopo avremo anche la candela accesa sullo sfondo. È una candela che fa un po' di pulito e fa una luce fortissimissimissima. Anche il topo in leino. Prendiamo come al solito i fiammiferi. Prendiamo come al solito. Ok, non si aspetta. E niente, a me piace tanto proprio accendere una candela. Vedete il fuoco che scoppia e mettiamola al suo posto. Guardate che bello. Il terzo livello numero 3, 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 3. e faremo sia questo che quello sincronizzato vediamo questo qui cominciamo da quello sulla fotocamera classico rilassati mentre ho fatto il topping leggero 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 il tuo bel visino 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 il tuo bel viso Ok. 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 Questo lo senti che? Che materiale è? facciamo anche un po' di scratching vediamo alla follia questo trigger forse non aveva dovuto mettere al terzo posto ma un po' più in alto ok questo vi fa capire che però in realtà i trigger di stasera saranno tutti pazzeschi il livello numero 4 è questo libro questo libro è un sogno è il libro pop up di Hogwarts di Harry Potter ed è praticamente adesso ve lo farò vedere avete presente cosa sono i libri pop up? questi i libri che aprendoli formano qualcosa diciamo così si crea qualcosa una figura di carta una struttura una scultura di carta ho già ci ho già dedicato un video intero a questo libro ma volevo visto che magari molti di voi se lo saranno perso volevo anche dedicarci un pochino di questo video e per questo trigger cambieremo inquadratura io adoro la follia vedere tutte le sezioni tutti gli oggettini che si muovono lo trovo super bello super SML secondo me questo anche come regalo di Natale per chi ama Harry Potter è stupendo 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 se lo ritrovo se trovo il link ve lo lascio giù in descrizione se lo trovo non saprei questo è il libro pop up di Harry Potter io lo trovo stupendo ok andiamo ad aprirlo è difficilissimo da far vedere con queste words questa secondo me è una pagina bellissima c'è il campo da Quidditch e beh guardate quante cose ci sono è meraviglioso è meraviglioso la lappa del malattrio e questa è la foresta un repita guardate che meraviglia qui qui ci sono tantissimi pop up c'è questo bellissimo poi vediamo c'è questo nella casa di Hagrid questo cos'è? la battaglia finale è troppo bello lo giuro e questo l'epogrifo bellissimo bellissimo livello 5 sono questi orecchini in plastica che sapete che sono uno dei miei trigger preferiti 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 ah tra l'altro cosa ne pensate della nuova intro? in realtà se l'ho da tipo marzo ve lo giuro ho fatto un sacco di tempo no? marzo no? giugno sicuramente giugno l'ho commissionata a marzo e l'ho diciamo finalizzata accettata così a giugno però non l'ho mai messa nei video non so perché non so perché mi piace mi piace sia il suono sia il trigger visivo di aggarezzare lentamente sia aggarezzare lentamente quando sono sulle orecchie quindi adesso vado a togliermi questi e me li vado a mettere e io adoro questo esatto trigger fatto così mi avvicino un pochino mi avvicino un pochino quindi mi avvicino mi avvicino un pochino mi avvicino un pochino se chiede io adoro proprio questo aggarezzare dolcemente gli orecchini mentre fanno questo suono stupendo per me è proprio troppo superifero ok il livello 6 è era troppo tempo che non le portavo era e soprattutto anche il trigger così non non Grazie a tutti. 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 E adesso proviamo l'effetto a tutti. e poi voglio provare a fare questa cosa. e quindi... e adesso suscita ecco qua le pelle sopravvigiliche il livello 8, anzi 8 è l'anticipatorietto per chi non lo sapesse è un po' complicato da spiegare ma appena lo sentite capirete è un trigger la cui bellezza sta nel fatto di non sapere dove sarà il suono sulla sorpresa e sull'imprevettibilità ad esempio come ho fatto ora quindi quando non saprete dove scelgo di parlare e quindi è molto bello anche con gli occhi chiusi che secondo me è un trigger molto particolare e molto specifico ma che so che tanti di voi farò venire un sacco di prevedi non so se lo so fare benissimo comunque questa trigger era di Heather Feather che non penso faccia ancora video è proprio la vecchia guardia dell'smr 10-12 anni fa bravissima quindi lo facciamo con un pochino anche di mi avvicino mi avvicino mi avvicino mi avvicino lontano mi avvicino mi avvicino lontano vicino vediamo cosa posso dirvi ero molto 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 decisa se fare o no questo trigger perchè? perchè? non so se mi venga bene non so se lo stia facendo nel modo corretto così lo stia facendo completamente completamente a casa vero? 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 non so se mi venga bene non so se mi venga bene vero? vabbè... mi vado a sapere perchè? non... non... non li trovo non so vero? spero tanto vi piaccia vi piaccia il mio nuovo taglio di capetoli che sono fatta nello scorso video adoro, adoro tantissimo questa lunghezza di lunghezza di capelli la trovo molto elegante e molto adattante non lo so pensavo pensavo decisamente peggio ok ditemi se questo anticipatore 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 trigger trigger vi è piaciuto? se l'ho fatto? se l'ho fatto? bene bene e ora passiamo al livello numero 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 nove fatemi sapere non sono convintissima però secondo me tutto sommato non è venuto male il trigger numero nove è stupendo è stupendo per questo prendo le pinzette e questo è il trigger del tiro fuori suoni dal microfono dal viso dall'altro microfono ok ok come funziona? adesso bisogna solo attivarlo quindi concentriamoci un attimo e dobbiamo attivare questo potere devi attivarlo anche te quindi concentrati bene lo attiviamo anche sui microfoni un bel respiro un bel respiro attivati bene attivati bene attiviamo bene questo potere ok e ora avvicino la pinza e lascia andare come era? adesso proviamo da questo microfono e aspetta che proviamo da questo e aspetta che eccolo qui passa intorno ai microfoni gira 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 e via facciamo di nuovo? ok ripetiamo e vediamo adesso fra questi suoni cosa uscirà anzi facciamo questo aspetta eh mi concentro sovrapponiamo i suoni quindi prendo da qui ok e ora prendo da qui va molto bene mollo questo e mollo questo e mollo questo adesso proviamo ok e sentiamo se ce n'è magari un uovo da qui si mollo questo e lo mollo e lo mollo carino ok ora proviamo ad abbinare questo e questo ok vado ma questo è nuovo ok ok prendo anche lì prendo e via e via e via e via adoro adoro follemente spero ti sia piaciuto livello numero 10 10 10 grande classico grandissimo però io lo amo che è brush in camera a beton click lo so grande classico ma veramente c'è qualcosa di più bello ok 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 non il non grazie a tutti 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 le luci grazie a tutti grazie a tutti good night 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 good night